Eusebio Pesci parla con Beppe Grillo, lei dice ci avete promesso di abolire i vaccini e invece ci li dovete iniettare con forza, bel volta gabbana, andiamo avanti sempre rivolto a Beppe Grillo Beppe sei degno di Burioni e della sua cricca con un aggravante sei uno sporco traditore Burioni, salve, benvenuto Buongiorno, buongiorno Qual è la sua cricca? Scusi, che cricca c'ha lei Burioni? Abolire i vaccini è veramente una frase incredibile come dire aboliamo i paracadute, aboliamo le cinture di sicurezza aboliamo gli aereo, è una follia Allora mi perdoni Burioni, sta uscendo dall'aeroporto di Ciampino Cesare Battisti, rientrato in Italia dopo quasi 38 anni di latitanza sta entrando nella macchia della polizia che lo condurrà al carcere di Re Bibbia Miluzzi Mirta, sì, Cesare Battisti dopo più di un'ora è uscito adesso dagli uffici dell'aeroporto militare per entrare nella macchina della polizia del reparto mobile della polizia penitenziaria adesso andrà in procura, in periferia per le foto segnaletiche di rito e poi andrà a Repubblica Mirta Cesare Battisti è uscito dagli uffici non ammanettato è uscito dagli uffici dell'aeroporto militare senza manette ovviamente scortato dalla polizia ma non era ammanettato era ovviamente vestito come atterrato questa mattina quindi con un giubbotto marrone e i suoi jeans aveva anche un po' la stessa faccia cioè abbastanza fiera e abbastanza ha accennato anche un mezzo sorriso a noi giornalisti che stiamo qua ad aspettarlo adesso appunto Battisti verrà portato prima in procura Ghignante se effettivamente aveva un po' un volto Ghignante adesso sono partite le auto della polizia il codazzo di tre auto che andrà appunto in procura e poi porterà Battisti a Revibbia dove sconterà l'ergastro ricordiamo di cui i primi sei mesi in isolamento diurno è quindi finita la mattinata del rientro di Battisti in Italia dopo 37 anni di latitanza grazie Andrea io rientro subito e abbiamo condiviso abbiamo vissuto insieme una mattinata davvero storica perché erano tanti, troppi anni e questo momento era atteso non solo da tutti noi ma dai parenti delle vittime di quelle quattro persone che sono state barbaramente uccise da Cesare Battisti torniamo al nostro tema scusate se vi ho interrotto Burioni mi stava dicendo che abolire i vaccini è come dire aboliamo il paracadute? sì perché i vaccini sono sicurissimi e sono fondamentali per la salute abbiamo appena assistito all'arresto di una persona che è stata condannata per averne uccise quattro le malattie infettive ne uccidevano tanti di più e tutti i bambini la poliomielite erano 8.000 casi all'anno e adesso non esiste più mi riaboliamo i vaccini e i pazzi mi scusi cosa è capitato? questa grande sollevazione della rete è dovuta al fatto che Beppe Grillo assieme a Mattio Renzi niente di meno che ha firmato un patto per la scienza promosso da lei e da un altro immunologo importante che è Guido Silvestri e questa cosa ha fatto grande scandalo perché Beppe Grillo era stato molto critico nei confronti dei vaccini delle big farm di tutto il traffico e gli affari che c'erano attorno ai vaccini Grillo ha detto in realtà io non ero contrario ai vaccini ma la obbligatorietà è una spiegazione che la convince Grillo ha cambiato idea secondo lei? ma io adesso non ho seguito le idee di Grillo anche perché mi dicono che le sue opinioni contro i vaccini hanno state dette nel contesto di uno spettacolo comico quindi può essere anche un'iperbole detta per far ridere sta di fatto che il patto che io e Guido Silvestri abbiamo proposto è molto rigoroso e mette un punto molto fermo contro la pseudoscienza contro pericolose bugie come quella dell'antivaccinismo come quella che nega l'esistenza della IDS o come quelle che propongono le cure inefficaci contro il cancro che servono solo ad aggiungere sofferenza a persone che già soffrono senta mi perdoni la ritiro un momento in politica però Buglioni perché Salvini il nostro vice premier qualche giorno fa ha detto in parecchi paesi i vaccini non si fanno tutti e non si fanno tutti insieme io sono convinto che ci sono vaccini che salvano vite è evidente che servano ma altri sono più discussi devo dire che mi è difficile individuare quali sono i vaccini più discussi tra quelli che sono obbligatori in Italia in molti paesi i vaccini non sono obbligatori questo semplicemente perché i genitori vaccinano spontaneamente i figli nel 2015 la nostra copertura per il morbillo era inferiore a quella del Ghana per darle un'idea l'altra differenza tra noi e gli altri paesi è che da noi i vaccini sono gratuiti ma i programmi di vaccinazione sono gli stessi sostanzialmente in tutti i paesi quindi i vaccini che noi usiamo sono usati in tutto il mondo professore i vaccini attualmente obbligatori nel nostro paese quei dieci insomma il suo parere era scienziato quindi appunto un parere naturalmente ben fondato e autorevole sono tutti necessari a suo parere? assolutamente sì sono vaccini sicurissimi oramai somministrati da moltissimi anni e che evitano malattie pericolosissime per ognuno di questi potremmo fare un lungo discorso ma riassumiamo dicendo che sono sicurissimi e importantissimi per la salute di tutti qui in studio con me c'è anche Paolo Crepe dicevo un altro medico uno psichiatra uno scrittore ha scritto un bellissimo libro che si chiama Passione ma qui con me per capire assieme come mai nel nostro paese in tanti si fanno affascinare ma direi abbindolare da stregoni vari vediamo la scheda e poi Paolo ci spiega l'uomo crede volentieri a quello che desidera lo diceva Giulio Cesare nel De Bello Gallico e questi ciarlatani raccontano ai pazienti proprio quello che si vogliono sentir dire sono rassicuranti convincenti carismatici sono i guaritori alternativi illusionisti della cura e oppositori della medicina tradizionale loro non trasmettono dubbi loro forniscono la soluzione o perlomeno una speranza io non ho visto ancora un guarito con la chemioterapia come dimenticare Luigi Di Bella con il suo aspetto dimesso i toni pacati i capelli bianchi il professore propone un metodo alternativo alla chemioterapia molti italiani gli credono ma la sua terapia non funziona e quasi 15 anni dopo a balzare alle cronache il metodo stamina di Davide Vannoni laureato in lettere e professore di psicologia della comunicazione oggi è l'ennesima manifestazione di queste persone malate senza nessuna possibilità di cura alternativa che chiedono di avere una speranza della sua cura miracolosa contro le malattie neurodegenerative non è mai stata provata l'efficacia e il suo metodo è finito al centro di inchieste della magistratura c'è chi ha rinunciato alla chemioterapia perché si è affidato alla nuova medicina germanica del dottor Hammer che associava la malattia ad un conflitto psichico dei pazienti ma già negli anni 50 c'era stato il siero anticancro del veterinario Liborio Bonifacio ricavato dai scrimenti di capra oggi il terreno fertile dei mercanti di false speranze è diventato il web dove vero e verosimile si confondono mentre i social veicolano il passaparola i bambini vaccinati risultano più esposti alle malattie infettive dei non vaccinati e allora avanti con gli illusionisti ma per fortuna il metodo scientifico non molla e ribatte colpo su colpo allora Paolo Crepe perché nel nostro paese in Italia facciamo così fatica ad attenerci al metodo scientifico e invece hanno tanto successo queste soluzioni fantasiose alternative ma perché siamo un paese pieno di maghi di fattucchieri di sangue che si scioglie è una vecchia tradizione noi dobbiamo fare i conti con che poi è una tradizione che c'è ancora c'è ancora naturalmente poi anche la cultura scientifica che in Italia c'è poco molto poco i bambini i ragazzini fanno sempre molta fatica si dice in Italia a fare matematica perché perché non la sappiamo insegnare e perché perché non ce ne importa niente perché se ci importasse metteremo i migliori insegnanti lì abbiamo avuto dei grandi scienziati in Italia che hanno preso del premio Nobel ma sono tutte persone che hanno lavorato in America basterebbe ricordare la montagna se non avesse lavorato in America non avrebbe mai preso un quarto di quel Nobel Dolbeco eccetera eccetera quindi è evidente che c'è una difficoltà nostra per certi versi ci piace anche l'idea che noi siamo un popolo umanista per cui basta la pacca sulla spalla il pranoterapeuta la cosa siamo pieni di roba strana ma non siamo solo noi anche in Francia questa è superstizione non è umanesimo umanesimo è una cosa seria sì certo che è una cosa seria ma ci mancherebbe che non ce l'ho mica col latino ce l'ho col fatto che qualcuno vorrebbe mettersi vorrebbe ancora vorrebbe ancora mettersi le le non so le cose sulle ferite io ho lavorato con l'organizzazione mondiale della sanità so cosa vuol dire andare in giro per il mondo e vedere una discrepanza per esempio tra paesi in cui non si vaccina dove c'hai una spesa anche pubblica perché poi io sono quasi fratello gemello della poliomelite perché la poliomelite è accessato proprio negli anni immediatamente precedenti a quando sono nato io io ho visto tanti amici di mio fratello per esempio che avevano preso la poliomelite ma tutta la vita zoppichi tutti la vita allora ma come si fa ad essere così dei cialtroni io non so il cialtroni che poi tutto questo dipende ultimamente da un'ideona che uno uguale a uno per cui di immunologi può parlare un dj un'ex ballerina e allora io dico a questi signori che ci credono domani che andate a farvi un'ecografia che dovete essere operati in ospedale e chiamate un dj no? vorrete mica un cardiologo però scusi Burioni il fatto che il massimo ideologo dell'uno vale uno cioè Beppe Grillo firma quel patto dice la scienza è una cosa seria questo vuol dire che c'è un bel successo no? per la scienza o no? ma io devo essere sincero Grillo è amico del professor Silvestri che a sua volta è un mio caro amico Guido Silvestri mi ha descritto Grillo come una persona sensibile alla scienza e quindi non l'oscurantista che alcuni possono immaginare fermo restando che comunque avere aderito senza riserve e con entusiasmo come mi è stato detto a un manifesto così rigoroso in favore della scienza e contro appunto questi cialtroni dei quali giustamente parlava con i toni che si meritano il dottor Crepe è una cosa molto positiva io sono molto contento di questo senta vediamo una fotografia insieme perché qualche giorno fa è mancato Fernando Aiuti Fernando Aiuti è stato un grandissimo esperto di una malattia terribile che è quella dell'AIDS e ha fatto una grande battaglia contro l'AIDS ma anche una grande battaglia contro i pregiudizi quella fotografia è il simbolo di quella battaglia lui aveva baciato Rosaria Iardino che era siero positiva per cercare di sconfiggere il pregiudizio con Two Lights che poteva essere trasmesso con un bacio quel bacio è stato molto simbolico ha cambiato un'epoca storica c'è bisogno di qualche grande simbolo anche oggi sui vaccini secondo lei? Ah scusi credevo avesse chiesto al dottor Crepe Sì chiedo entrambi Burioni e poi Crepe Aiuti è stato un grandissimo medico e un grandissimo scienziato però ha capito anche qual era un altro problema la discriminazione nei confronti dei malati ricordiamo che in quegli anni essere infettati da HIV significava morire e per dare un'immagine concreta di qual era l'atteggiamento nei confronti di chi era stato infettato ricordiamo che quando Roccazzon disse che appunto aveva l'HIV la clinica di Parigi dove si trovava ricoverato si svuotò e lui fu costretto a comprare tutti i biglietti di un jumbo jet per poter tornare negli Stati Uniti perché nessuno voleva viaggiare con lui ecco in questa situazione Aiuti comprese che c'era un altro problema il pregiudizio la discriminazione che aggiungeva dolore ai pazienti e con questo gesto fantastico il professor Aiuti ha spezzato appunto questa idea sbagliata ricordiamoci per i vaccini che quello che fece schizzare in alto la vaccinazione contro la poliomielite negli anni 50 negli Stati Uniti fu Elvis Presley che si vaccinò in diretta televisiva pubblicità torniamo subito sentiamo il parere di Paolo Crecchè grazie a tutti